Bella a tutti ragazzi, parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Bentornati ragazzi a tutti quanti sul canale Sicuramente come avete detto dal titolo oggi andiamo a fare una piccola recensione barra reazione barra impressioni Insomma andiamo a fare tutto quanto sull'episodio 9x10 Un episodio ragazzi che mi ha colpito veramente tantissimo Anche se a molti insomma non è piaciuto proprio tantissimo Ecco ci sono parecchio discordanti a riguardo Ma comunque ragazzi oggi vi darò le mie impressioni, le mie reazioni, insomma la mia recensione ecco Dell'episodio 9x10 Omega Ovviamente ragazzi prima che inizio con il video vi ricordo come al solito lasciare un piace Perché ci tengo veramente moltissimo, superiamo i 120-130 mi piace Per questo video ci terrei veramente moltissimo Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Perché ragazzi è molto importante, attivate anche la campanellina E colgo l'occasione anche in questo video ragazzi per informarvi che io e MondoFox La pagina che forse molti di voi conoscono O meglio diciamo la parte di Fox Italia ecco a riguardo appunto il loro sito online Ho fatto appunto una collaborazione con loro e ci sono io diciamo nel video di MondoFox È stata una collaborazione ragazzi che ho chiesto appunto io e fortunatamente loro hanno accettato Ed infatti abbiamo iniziato questa sorta di collaborazione che si spera possa andare avanti Il primo episodio diciamo di questa tra virgolette collaborazione dove ho parlato diciamo tra le differenze Tra la serie tv e il fumetto la potete trovare in descrizione Ragazzi supportate questa piccola rubrica appunto che ci sono io come diciamo protagonista tra virgolette In modo che magari settimanalmente si può andare avanti insomma Ma con il vostro supporto ragazzi ce la potremmo tranquillamente fare Io rincolgo l'occasione anche per ringraziare la stessa MondoFox E insomma passate nel link che vi metto in descrizione così lo vedete direttamente Non ci lunghiamo in altre chiacchiere ragazzi ed iniziamo subito con il video Come ho già detto ragazzi in descrizione troverete solo quel link diciamo della collaborazione con MondoFox Nulla di più nulla di meno e andiamo subito a parlare dell'episodio Farò un piccolo riassunto vi darò le mie impressioni la mia reazione E secondo me anche il come è stato l'episodio nel complesso ovviamente poi dando il voto finale Diciamo che l'episodio ragazzi mi ha colpito veramente tantissimo partendo direttamente dai flashback di Lidia Perché parliamoci chiaro quello è stato il fulcro dell'episodio a mio parere Nel senso abbiamo visto tramite gli occhi di Lidia attraverso gli occhi di Lidia abbiamo visto la sua storia Che inizialmente ragazzi io credevo fosse all'inizio proprio la storia reale Ma in realtà è curiosa questa cosa che in realtà non era così ma andiamo con ordine Diciamo che inizialmente si vede attraverso appunto gli occhi di Lidia La stessa Lidia nel giorno 23 dell'Apocalisse da piccola insieme a Alpha stessa Quindi insieme alla madre e insieme al padre Frank Inizialmente Frank appariva un po' diciamo un padre un po' tra virgolette stronzo Come io ho fatto l'analisi appunto dei primi minuti in un precedente video E appunto appariva insomma molto molto rigido infatti molto freddo E insomma era un padre che se ne voleva andare non voleva stare in quel posto Perché non credeva più nelle cure mediche non aveva più speranza ecco Quindi se ne voleva andare perché riteneva che tutti gli altri fossero deboli E lui voleva semplicemente andarsene E insomma Lidia possiamo dire così in parte questa cosa è reale Infatti lei l'ha vissuta ma non è proprio così Infatti vediamo in un primo impatto lei che viene praticamente coccolata diciamo dalla madre E gli canta una canzone che a lei quando è spaventata la fa tranquillizzare Infatti la che cantava la canzone O Lidia O Lidia questa canzone qua inizialmente veniva cantata appunto dalla stessa Alfa E la tranquillizzava E poi vediamo appunto dopo questo flashback diciamo che abbiamo visto Vediamo a chi sta raccontando tutto questo Come già ho fatto l'analisi scorsa diciamo dei primi minuti Sapevamo benissimo che era proprio Henry Che a quanto pare quello stupido di Henry gli va a dire praticamente tutto quanto a Lidia Gli ha confessato praticamente le cose principali ovvero che esiste il regno che esiste Ezekiel Insomma gli ha detto parecchie cose In quanto da quello che ha capito Henry questa è una brava persona Cioè Lidia è una brava persona lui si fidava subito di lei Insomma gli ha dato subito una buona impressione di questa persona qua Ma Daryl non ha consentito a ciò infatti subito l'ha preso di forza e gli ha detto Cosa cavolo stai facendo Henry? E lì mi è piaciuto tanto perché abbiamo visto come in realtà Il personaggio di Daryl ha giocato un'ottima analisi in questo episodio Cioè veramente è stata analizzata a dovere Facciamo un esempio chiave di come Daryl secondo me è stato analizzato bene in questo episodio A parte che lui ha provato in tutti i modi a cercare di far confessare Lidia Con la sua brutalità, la sua forza Quando in realtà non è quella che ha consentito a Daryl di ottenere informazioni Ma è stata la sua furbizia che ha praticamente usato tra virgolette Henry Per ascoltare ciò che diceva Lidia Ma non solo questo, non solo questo ha caratterizzato secondo me il personaggio di Daryl Lo ha caratterizzato anche per il semplice motivo che la storia di Lidia In parte ricorda diciamo la storia diciamo in parte della sua infanzia Ecco della sua vita Anche lui aveva un'infanzia difficile Anche lui ha avuto un'infanzia difficile Daryl da piccolo Quindi questa cosa secondo me ha fatto entrare in empatia Il personaggio di appunto Lidia allo stesso Daryl Cioè questa è una cosa che mi è piaciuta tanto Vedere comunque questi due personaggi che finalmente si capivano Anche Daryl si è aperto a Lidia E forse è stato grazie al fatto che si è aperto che ha ottenuto queste informazioni E poi come sapete insomma Lidia poi ha confessato a Daryl la posizione di Alph Ed è stato bello il come Daryl è riuscito a ricavare questa informazione Semplicemente essendo se stesso Non essendo un'altra persona Cioè essere un'altra persona ovvero quella finta dura Che comunque cerca di far finta di essere appunto il duro Come insomma noi conosciamo Daryl ma in realtà noi sappiamo benissimo che Daryl non è questo tipo di persona E questo episodio ce l'ha fatto capire a pieno È stato veramente bello il contrapporsi delle scene come ti dico dei flashback di Lidia Con appunto Alfa E poi si viene a scoprire pian piano nell'episodio Che in realtà non era il padre che era uno stronzo tra virgolette Ma era la stessa Alfa Infatti è stata bellissima la scena quando il padre diciamo si stava tagliando la barba E si vedeva appunto che si cominciava a tagliare la barba Praticamente è stato appunto Se l'era stata completamente diciamo la barba E poi in un'altra scena Praticamente il mattino dopo si vedeva lui con ancora la barba E quello ragazzi non è stato un errore Ma erano semplicemente i ricordi di Lidia affuscati Perché la madre ha semplicemente fatto un lavaggio del cervello alla stessa Lidia Facendogli credere che quei ricordi fossero reali Quando in realtà non era vero In realtà era tutto il contrario In realtà era Alfa quella che se ne voleva andare Quella che voleva subito andare via Che insomma riteneva che tutti gli altri erano deboli Infatti la stessa Alfa uccide lo stesso marito Proprio perché lo riteneva debole Ed abbiamo scoperto anche finalmente il significato dello shh di Alfa Infatti lei praticamente prende il marito E lo uccide davanti alla stessa Lidia Facendogli questo gesto Come per dire stai tranquilla Stai in silenzio Lui è semplicemente debole Semplicemente stupido E Alfa parliamoci chiaro È una pazza È una pazza Infatti Lidia lo ha capito Lidia voleva ripetere a se stessa Che la madre era una brava persona Quando in realtà non era vero E una volta che ha capito Che insomma nessuno verrà più a cercarla Allora da lì ha confessato tutto a Daryl Ma era troppo tardi Perché adesso Alfa è alle porte di Alexander Scusate di Alexander Di Hiltop Che praticamente con un gruppo di sussurratori È praticamente circondato ecco da questo gruppo di sussurratori Ed Alfa stessa dice Io voglio soltanto una cosa da te Mia figlia E questo era ricopiato perfettamente dal fumetto Dalla scena chiave del fumetto Dove praticamente c'è la stessa Alfa che si toglie la maschera E gli dice queste parole qua E quindi ragazzi ci ha lasciato questo cliffhanger pazzesco Dove vediamo Alfa davanti a Diltop Cioè ragazzi Alfa davanti a Diltop Quindi c'è è stato ragazzi un episodio davvero fantastico Cioè ragazzi a me è piaciuto veramente tanto Perché mi ha ricordato il vecchio The Walking Dead Lo stile cui The Walking Dead è diventato quella serie che insomma è oggi Cioè lo stile che mi ha colpito di The Walking Dead è proprio questo qua Cioè il come viene gestito l'episodio Il come vengono caratterizzati i personaggi Come è stato caratterizzato il personaggio di Daryl Come è stato caratterizzato il personaggio di Lydia Come è stato caratterizzato il personaggio di Alfa ragazzi Questi personaggi sono stati gestiti veramente bene Anche se teoricamente nel fumetto noi non abbiamo una backstory di Alfa Ma è stata completamente riadattata sulle basi che avevamo del fumetto Noi sapevamo soltanto che i sussurratori erano un gruppo del Washington DC Che prima erano in un accampamento E insomma non sapevano Erano vaghe insomma le informazioni E la MC i produttori sono riusciti a prendere queste informazioni Gestire una backstory di Alfa Quindi inventare una backstory di Alfa E dandogli così uno spessore psicologico veramente eccezionale Cioè a me è piaciuto questo ragazzi dell'episodio È piaciuta la backstory di Alfa Finalmente sappiamo lei che persona è Lei che cos'è come persona E finalmente possiamo anche insomma immaginare quello che potrebbe succedere dopo Non si sa bene se adesso Lydia verrà usata come merce di scambio Lydia verrà veramente scambiata per Alden e Luke Alfa non farà nessuna vittima La conosciamo bene com'è nel fumetto Quindi secondo me insomma le cose veramente si evolveranno veramente in maniera pazzesca E qualche vittima purtroppo secondo me ci scapperà Ma da una parte non vedo l'ora di vedere Alfa in azione Perché deve essere Cioè nel fumetto ragazzi Alfa è molto più cattiva di Negan E credo che come è stato introdotto il personaggio di Alfa Veramente supera secondo me in parte il villain che è stato Negan Questo è solo un inizio di Alfa ragazzi Ma io se continua così ho questa vaga sensazione Che Alfa possa davvero superare Negan come villain Quindi ragazzi l'episodio secondo me è stato veramente eccezionale Io ho già dato il voto ieri nella live ma lo ridò oggi Io do ragazzi un diciamo 9,8 Quindi un 10 meno insomma un 9,8 pieno all'episodio Perché ragazzi a me è ricordato il vecchio The Walking Dead Forse il motivo per la mia valutazione alta è proprio questo Cioè che mi ha ricordato lo stile che ha caratterizzato in passato The Walking Dead Quindi per questo do una valutazione così alta all'episodio E ovviamente ragazzi questa è una valutazione personale Fatemi sapere ovviamente anche voi la vostra qui giù nei commenti Ma veramente impressioni positivissime di questo episodio Aspetto con ansia il prossimo perché veramente si prospetta essere veramente una bomba Domani ragazzi non perdetevi l'analisi della promo Insieme a Danilo probabilmente la vedrete Analizzeremo frame per frame la promo dell'episodio 9x11 E fidatevi la promo è davvero una bomba Cioè vi giuro che la promo vi metterà un hype tremendo Che veramente rimarrete incollati allo schermo così aspettando lunedì Perché veramente si prospetta essere un episodio veramente veramente bomba Fatemi sapere ragazzi voi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio ragazzi Fatemelo sapere con un commento E che dire spero questa recensione vi sia piaciuta In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace perché ci tengo veramente moltissimo Superiamo i 120-130 mi piace per questo video Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Attivate la campanellina mi raccomando delle notifiche per non perdervi i prossimi video Se volete entrare nel gruppo Telegram mandate un messaggio in privato il link lo trovate in descrizione Supportate il nuovo progetto con MondoFox ragazzi Sempre il link è in descrizione Speriamo vada avanti Io sarei felice di farlo perché ragazzi veramente è stato veramente un piacere fare questa collaborazione qua Speriamo appunto continui nelle prossime settimane Tutto forse sarà merito vostro Insomma anzi tuttora è merito vostro che appunto sono arrivato diciamo sulla pagina di MondoFox Grazie a voi e grazie a vostro supporto Che dire ragazzi ci risentiamo domani con l'analisi della promo Vi ringrazio e ci risentiamo domani Un saluto da Foxhane The Walking Dead News Spoiler e altro E bella Ciao a tutti Un saluto da Foxhane The Walking Dead News Un saluto da Foxhane The Walking Dead News